Sono più di 13.000 su tutto il territorio nazionale i punti della rete PuntoPoste, il network di posti italiane per il ritiro degli acquisti online e la spedizione di resi e pacchi prepagati. Alla rete composta da 12.800 uffici postali si affianca infatti quella formata da circa 12.600 tabaccai, in virtù dell'accordo con la Federazione Italiana Tabaccai. Oltre ai negozi Keypoint, supermercati Carrefour, punti Indabox, distributori IP e da 350 locker. Nel 2021 sono stati lavorati dalla rete PuntoPoste oltre 6.300.000 pacchi e nei primi 4 mesi del 2022 l'utilizzo della rete ha segnato un'ulteriore impennata con un totale di 4.500.000 lavorazioni, il triplo rispetto allo scorso anno, a dimostrazione di quanto il servizio si è apprezzato dai clienti. Il volume delle persone che spediscono vengono a ritirare i pacchi è aumentato tanto e negli ultimi mesi sempre di più. È molto apprezzato il fatto che possano ritirare in un altro punto i loro pacchi perché comunque siamo anche in città quindi spesso si trovano fuori casa quindi è comodo per loro venire a ritirare da noi in un orario, in una fascia oraria ampia. La rete PuntoPoste ha orari flessibili, è disponibile anche nel weekend e può essere scelta sia per il ritiro dei pacchi, sia per effettuare la spedizione di pacchi prepagati e dei resi senza stampare nessun tipo di documentazione ma semplicemente mostrando il QR code rendendo le operazioni estremamente rapide. Il tempo di ritiro è velocissimo, veramente un minuto, un 30 secondo minuto è veloce, comodo e quindi non crea problemi, non crea nemmeno file. Il reso Paperless è molto apprezzato, il QR code è comodissimo e anche molto veloce si impiega ancora meno tempo con il QR code. Lo sviluppo della rete di prossimità PuntoPoste, utilizzata dai marchi più importanti dell'e-commerce è un elemento distintivo dell'offerta di poste italiane in ambito logistico. Inoltre, affidarsi ai punti della rete PuntoPoste, oltre a quella degli uffici postali per il ritiro di una spedizione, è anche una scelta sostenibile. L'utilizzo dei punti di prossimità di poste italiane permette infatti di abbattere le emissioni di CO2 riducendo il chilometraggio della flotta logistica. Semplice, veloce e sostenibile, la rete di CollectPoint di poste italiane offre dunque un'opportunità in più per vivere senza sorprese, con un occhio di riguardo verso l'ambiente, l'esperienza di acquisto online.